sono contento di dire che il tg di oggi si potrebbe dire all'insegna del ottimismo e sì perché partiremo con un'ottima notizia riguardante gli smartphone e il problema di sicurezza che era stato evidenziato nelle scorse edizioni per parlare anche un pochino di whatsapp e di nuove funzioni che verranno introdotte passando poi per il nuovo aggiornamento dei microsoft power toys che introducono una funzionalità abbastanza interessante poi vedremo l'unico problema negativo della giornata riguardante alcune ssd alcuni hard disk che inopinatamente ed improvvisamente hanno iniziato a cancellare i dati dell'utente ma vedremo anche come porre rimedio a questa cosa e ci occuperemo anche del mondo delle password perché a quanto pare google ha deciso di dire basta a questa era sostituendo le password con le paschei che sono qualcosa di molto diverso rispetto a quello che il nome vorrebbe suggerire concluderemo quindi con una puntatina sul mondo dei processori perché a quanto pare ci sono delle novità molto ma molto importanti in vista allora ti senti pronto? Iniziamo! Se segui assiduamente questo notiziario avrai sicuramente fatto caso alla puntata del 14 maggio in cui abbiamo parlato del problema degli smartphone che nascono direttamente in fabbrica con dei malware preinstallati ebbene a quanto pare tre giorni dopo e precisamente il 17 di maggio anche striscia la notizia con la bellissima michelunziker seconda per bellezza solo alla nostra hostess Samantha si è occupata dello stesso problema ebbene la buona notizia di oggi è che a quanto pare l'italia è immune dal problema ebbene sì perché a quanto possiamo leggere i dispositivi che presentano questo problema sono dispositivi del costo inferiore ai 50 dollari destinati come mercato solo ed esclusivamente ai paesi in via di sviluppo quindi se per caso hai intenzione di acquistare un cellulare all'estero in uno di questi paesi almeno bada di non prendere uno dei modelli a basso costo e rimaniamo sul mondo mobile per due nuove funzionalità introdotte da whatsapp entrambe abbastanza interessanti la prima è chat lock la funzione che consente di bloccare con un lucchetto e quindi il riconoscimento facciale o l'impronta digitale le chat più riservate quindi se hai una chat sensibile oppure una chat di lavoro ti basterà cliccare sul nome dell'utente e scegliere di crittografare quella chat sbloccandola appunto con una delle impostazioni biometriche naturalmente potrai anche scegliere di silenziare le notifiche relative a quella chat non facendole comparire nella schermata principale del tuo smartphone la seconda opzione che sta per essere introdotta su whatsapp è invece un po copiata da telegram consiste sostanzialmente nei cosiddetti username univoci che cosa sono gli username univoci semplicemente la possibilità di scegliere ciascuno di noi un nome utente unico e diverso da tutti gli altri e anziché dare il proprio numero di cellulare ad un potenziale interlocutore fornire semplicemente il nome utente grazie a questo metodo naturalmente sarà possibile iniziare una chat di qualsiasi tipo con un qualsiasi utente di cui conosciamo semplicemente lo username insomma un grosso passo avanti per quanto concerne la privacy e torniamo finalmente sul nostro adorato mondo windows e sì perché a quanto pare microsoft ha tirato fuori una nuova versione di power toys se ben ricordi qualche video fatti avevo presentato i power toys un insieme di utilities della microsoft che consentono di potenziare windows apportando una serie di nuove funzionalità ebbene a quanto pare sono state introdotte molte funzionalità con la nuova versione che probabilmente ti andrò a presentare ma queste due tele e dico in anteprima la prima si chiama mouse senza limiti e consente dal proprio pc di controllare fino a 4 pc contemporaneamente spostandosi con il mouse da un monitor all'altro di ognuno dei pc e spostando anche file e cartelle per un massimo almeno per il momento di 100 megabyte la seconda funzione invece si chiama power peak e consente di vedere in anteprima il contenuto di una serie molto ampia di file senza necessità di aprirli il che pensando ci costituisce anche un bel passo avanti per quanto concerne la sicurezza l'unica brutta notizia di oggi purtroppo riguarda i proprietari di hard disk di marca sun disk modelli extreme pro ed extreme da 2 e da 4 gigabyte ebbene a quanto pare improvvisamente questi hard disk hanno iniziato a cancellare in maniera irreversibile i dati degli utenti sun disk interpellata ha risposto con un aggiornamento che però purtroppo è efficace solo ed esclusivamente sui modelli da 4 gigabyte e non su quelli da due purtroppo a quanto pare siccome erano dei prodotti di fascia alta che costavano fino a 750 euro di listino che sono stati venduti ad un prezzo decisamente inferiore recentemente pare che si trattasse di lotti difettosi di cui sun disk era a conoscenza e che anziché distruggerli abbia provato a venderli agli utenti ignari purtroppo tutto quello che posso dirti se dovessi essere proprietario di uno di questi hard disk e di acquistare un altro disk possibilmente di marca e modello diverso ed effettuare immediatamente una copia di questi dati perché purtroppo è possibile che prima o poi tu venga anche toccato da questo problema e a quanto pare e questa dovrebbe essere una svolta davvero epocale google sta dicendo basta all'era delle password succede infatti che già da anni è stato portato all'attenzione delle big tech cioè delle aziende che operano nell'ambito della tecnologia il fatto che le password siano diventate veramente anacronistiche vuoi perché sono facili da attaccare vuoi perché gli utenti hanno difficoltà a ricordarle e a memorizzarle negli appositi software che sono facilmente attaccabili vedi il caso di one password di cui abbiamo parlato alcuni giorni fa la soluzione sarebbe quindi quella di passare alle cosiddette passkey che però sono un qualcosa di diverso da quello che vorrebbe suggerire il nome stesso non si tratta infatti di altre password bensì di sistemi di autenticazione completamente diversi basati prevalentemente sulla tecnologia cellulare che consentono la rilevazione delle impronte oppure il riconoscimento facciale degli utenti è già possibile attivare le passkey di google e quindi proteggere la maggior parte dei propri account con questo sistema decisamente più avanzato e non escludo a breve di fare un brevissimo video in merito per chiarire in maniera semplice come attivare questo meccanismo ed è stata riportata da diverse testate giornalistiche tra cui la prestigiosissima tom's hardware che vediamo aperta in questo momento la notizia che i processori del futuro non implementeranno più la tecnologia a 32 bit cosa significa questo da un lato il fatto di implementare la tecnologia a 32 bit significa che i processori a 64 bit dovevano trascinarsi dietro una cosa che si chiama legacy che consente di eseguire questo tipo di tecnologie su una macchina seppur dotata di processore a 64 bit se i nuovi processori non implementeranno questa tecnologia naturalmente da un lato non saranno più in grado di eseguire tutte le vecchie applicazioni e sistemi operativi a 32 bit ma dall'altro saranno estremamente più veloci nell'avvio e nell'esecuzione non essendo più legati a questa vecchia tecnologia legacy sarà comunque possibile secondo me far girare i vecchi software a 32 bit sia per mezzo della virtualizzazione e quindi seppur non in maniera nativa eseguire su una macchina virtuale o qualcosa di simile le applicazioni di vecchio tipo ma anche effettuare dei porting cioè trasformare delle applicazioni a 32 bit in applicazioni a 64 bit ricompilando le per mezzo di appositi strumenti e parliamo un attimo rapidamente del nostro sito www.gentiluomo digitale.it su cui a brevissimo verrà implementata te lo annuncio ufficialmente la sezione dedicata al forum ancora una decina di giorni in questo momento la sezione sotto test da parte degli utenti del canale telegram ma presto verrà aperta a tutti e ti ricordo che sullo stesso sito nella sezione hardware se ne avessi bisogno potrai anche trovare un'unità di archiviazione esterna qualora fossi tra le vittime dei famigerati sandisk di cui abbiamo parlato prima su cui riversare i tuoi dati e prima di chiudere ci tengo a fare un ringraziamento speciale a tutti gli utenti del canale che hanno partecipato nella sezione community del canale stesso ai vari sondaggi aiutandoci a creare la prima iso che è stata presentata sabato scorso e che a quanto pare ha avuto un discreto successo un ringraziamento enorme va anche a tutti coloro i quali hanno voluto sostenere il canale con il loro super grazie e all'ultimo entrato cioè all'ultimo abbonato del canale cioè il mitico stefano da stoccolma detto anche yoko poco ma yoko grazie stefano per essere entrato a far parte dei nostri bene detto questo penso di non aver proprio più niente da aggiungere anche per oggi e a questo punto come sempre non mi resta che salutarti anche da parte della nostra hostess samantha e darti appuntamento alla prossima